Allora, dopo molto tempo sono qui con Elena, felice di rivederla sul set insieme a me, per parlare di illuminazione. Faremo una lezione molto base su come misurare la luce e come dosarla, usando stavolta i flash. Questi saranno gli strumenti che andremo ad utilizzare. Due flash portatili a batteria, in questo caso sono due Edding Home 3, un piccolo strip box, questo è un 30x55 della Fotix, uno strip box leggermente più grande, un ombrello dip bianco, un ombrellino bianco semplice che può essere utilizzato anche come ombrellino trasluce. Naturalmente andremo a misurare la luce attraverso uno strumento fondamentale che è il requisito indispensabile per poter gestire la luce sul set e per apprendere la metodologia che ci permette di arrivare a scattare la nostra foto nella maniera esatta per come l'abbiamo immaginata, già pronta sulla nostra fotocamera. Quindi senza andare a tentativi, gestendo la luce con metodo scientifico e scegliendo la migliore illuminazione per la nostra scena in relazione all'atmosfera con cui la vogliamo caratterizzare. Questo è l'esposimetro che andremo ad utilizzare, che è un Sekonic 858D, che mi permette semplicemente di poter azionare il flash con un trasmettitore interno nel momento in cui vado a schiacciare il pulsante della misurazione. Al contrario l'esposimetro della fotocamera può andare a misurare sia la luce riflessa attraverso la misurazione spot con questo mirino che ha la precisione di un grado oppure attraverso la luce incidente. Allora non lavoreremo su questo fondale da studio ma vi voglio far trovare in una condizione più normale, cioè un classico fondo bianco che spesso è la condizione in cui dobbiamo andare a lavorare quando ci spostiamo con i nostri flash in una location. Andiamo a incorniciare Elena su questa piccola zona lavorando proprio sulla distanza per determinare già in fase di scatto di che tonalità la nostra parete dovrà uscire fuori, se la vogliamo bianca oppure un'altra tonalità di grigio. Il primo modellatore che andremo ad utilizzare è questo semplice ombrellino bianco, una luce semidiffusa che ci permetterà di realizzare già un incarnato gradevole ma soprattutto attraverso anche la distanza dell'ombrello rispetto al nostro flash di gestire il fascio luminoso in modo da determinare quanta luce andrà sul soggetto, quanta andrà sullo sfondo. Iniziamo dal classico ritratto a fondo bianco, quindi posizioniamo il nostro soggetto a circa un metro dallo sfondo e andiamo a posizionare la luce il più lontano possibile. Partiamo con uno schema luce butterfly. Vado a posizionare la luce più alta rispetto al soggetto e la inclino leggermente verso il basso. In questo momento il mio flash si trova a circa 3 metri e mezzo dal nostro soggetto e a 4 metri più o meno dallo sfondo. Dopo aver scelto naturalmente l'inquadratura e l'ottica con cui vado a realizzare il mio ritratto, devo stabilire il diaframma e in generale l'esposizione, perché io regolerò il mio flash sulla base delle scelte che faccio in maniera preliminare. L'ISO 100, un 125esimo f4, è l'esposizione che io ho già imposto in macchina. Adesso vado a regolare la luce grazie al mio trasmettitore. Ovviamente gli settaggi dell'esposimetro sono identici a quelli della mia fotocamera. In questo momento faccio partire il lampo e vado a rilevare un f1.4.0. Quindi andrò sul mio flash ad aumentare la luce esattamente di 3 stop. Andiamo a misurare nuovamente la luce e abbiamo il nostro f4. Vado ad inquadrare. Ecco qua il mio butterfly con uno sfondo bianco. Ma immaginiamo di voler trasformare il nostro fondo bianco in un grigio medio 18%. Vado a creare le giuste distanze per avere la giusta caduta di luce sul mio background. Quindi vado a differenziare la distanza fra luce soggetto e soggetto sfondo. Faccio andare più avanti la nostra Elena e accorcio la distanza del mio illuminatore abbassandolo e modificandone leggermente l'inclinazione in modo tale da avere lo stesso schema luce ma una distanza estremamente ridotta. Vado a ricalibrare la mia luce sul mio f4 perché accorciando la distanza naturalmente la concentrazione dei fotoni aumenterà sul viso. Avrò quindi che la distanza rispetto allo sfondo in maniera relativa sarà aumentata. Quindi la caduta di luce sul mio background sarà di circa 2 stop rispetto alla luce che arriva sul soggetto. Se voglio massimizzare ancora di più questa distanza relativa devo avvicinare ancora di più il mio soggetto alla luce in modo tale da avere almeno 3 stop di caduta di luce sul mio sfondo. Questi 3 stop verranno recuperati dal fondo bianco e avrò un allineamento preciso alla zona 5 cioè al grigio medio 18%. Andiamo a misurare la luce che adesso arriva sulla nostra Elena e è quasi un f8, 5,6,9. Quindi vado a togliere 2 stop di luce. Questo mi consente di riallineare la luce al mio f4. Sullo sfondo ovviamente arriverà meno luce. Abbiamo un f1,4 e mezzo circa. Riadeguando quindi semplicemente le distanze come avete visto senza andare a tentativi matematicamente so che quel fondo bianco sarà un grigio medio 18%. Andiamo a realizzare lo scatto. Inquadro. Metto a fuoco. Esattamente allineato a un grigio medio 18%. Vado adesso a cambiare il mio modellatore luce. Vado ad inserire uno strip box grigliato sul mio flash per avere una luce più diffusa rispetto a una luce puntiforme con una parabola ma sempre super controllata grazie alla griglia. Vado a creare uno schema luce piena. Quindi spalle e viso volti verso la key light in modo da avere due terzi del viso in alta luce e un terzo in ombra che crea profondità. Anche avendo una distanza minore rispetto allo sfondo avrò una luce controllata e selettiva sul soggetto. Immaginiamo di voler scattare un piano americano con un diaframma più aperto e quindi portiamo la nostra luce a f2.8. Misuro la luce che in questo momento arriva su Elena che è pari a f1.4.5 circa. Riadeguo la luce al mio diaframma. Già so che il suo incarnato sarà illuminato per avere una resa naturale. Sullo sfondo ci arriverà una luce residuale molto bassa. Quindi il mio sfondo stavolta riceverà meno luce rispetto a prima e infatti sarà ancora più scuro di prima nonostante mi trovo più vicino allo stesso. La mia nuova esposizione sarà quindi f2.8 ISO 100. Quindi soggetto, viso e corpo volto verso la mia key light che naturalmente deve essere anche inclinata nel modo giusto per illuminare bene qui il piano americano. Eccolo qua. Come vedete il viso ha un'ombreggiatura considerevole come avevo previsto quindi un alto rapporto di illuminazione e lo sfondo è una zona che si trova nella parte più bassa della scala tonale di Adams quindi sotto al grigio medio 18%. Lo scatto appena realizzato è caratterizzato proprio da una luce controllata. Qui adesso possiamo andare a creare una luce più interessante mettendo una rim light in contrapunto. Mettiamo in campo il secondo flash su cui ho montato un strip box grigliato 35%. Questa sarà la mia rim light. Il viso è volto verso la luce con le ombre vado a marcare proprio i lineamenti del soggetto. Viso verso luce, mento un po' più alto. Bravissima. Andiamo adesso a creare una luce più diffusa sostituendo questo modellatore con un ombrello tip bianco. Andiamo a creare questo setup per uno schema luce split. Sulla mia ZF ho installato adesso un 50mm f1.8 in modo tale da poter fare una figura intera andrò a scattare con un diaframma f4. Vado a lineare la mia key light vado a regolare la mia rim light in modo che questa volta sia ancora più incisiva. Diretta col viso, bravissimo Elena. Spalla ancora più indietro. Spera che questa introduzione che abbiamo fatto io ed Elena vi sia piaciuta. Elena tornerà con noi nei corsi online dove approfondiremo molto di più le tematiche che riguardano la luce. Infatti l'argomento è estremamente vasto. Nei corsi online trattiamo tematiche che vanno sia dalla luce cinematografica a quella del ritratto in studio che in ambientato. Ci colleghiamo spesso da location in esterne dove mischiamo luce flash e luce continua. Insomma, un sacco di roba. Se volete saperne di più andate sul mio sito fotografiadimoda.com sul menu school trovate tutto il calendario corsi per il 2024. Con noi ci vediamo presto per una prossima lezione qui sul canale YouTube. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie.